Abbiamo incontrato Juan, Border Collie, campione di agility con il suo padrone Franco. Durante la preparazione atletica Juan subisce un infortunio. Eravamo state chiamate anche in nazionale e dovevamo gareggiare in ottobre. Purtroppo a gennaio è successo questo incidente di percorso. A questo punto comincia la corsa contro il tempo per salvare il suo arto, che purtroppo sarà da amputare con grande dispiacere di chi lo ama. Franco però non si dà per vinto e si rivolge alla clinica Vezzoni di Cremona nella speranza di poterlo salvare. Juan ha subito una frattura di metatarsi durante attività sportiva e sono state trattate le fratture con nostre sintesi con placche presso un'altra clinica veterinaria e ha poi sviluppato delle complicanze. A quel punto la via che si sceglie più comunemente è l'amputazione dell'arto. In questo caso, d'accordo con i proprietari, abbiamo valutato di intraprendere un'altra strada, che è una strada sicuramente più complessa, quindi di andare a realizzare una protesi fatta su misura. Esistono due tipi di protesi, le esoprotesi, una sorta di tutore agganciato all'esterno e poco tollerato dai cani, oppure le endoesoprotesi, con una parte innestata sull'osso e una agganciata, ed è quella scelta dal medico per Juan. È stato fatto il progetto della protesi, quindi viene creato un gruppo di lavoro con tre ingegneri biomedici e il chirurgo e si fa il progetto, quindi ogni progetto è ad hoc, quindi è per il singolo paziente. Sviluppata la protesi, poi l'intervento è fatto in due step. Il primo è l'impianto della parte interna dell'esoprotesi, completamente chiusa, coperta dalla cute, e dopo un paio di mesi, una volta che questa è già in fase avanzata di integrazione, si crea lo stoma per agganciare la parte esterna della protesi. Il percorso è duro e diverso da quello in cui Franco inizialmente sperava, ma oggi è soddisfatto. Adesso posso dire che vedendo lui camminare normalmente mi sento molto risollevato e col senno di poi dico che abbiamo fatto la scelta giusta. Non solo lo specialista, anche il ruolo del padrone è fondamentale. Franco, attentissimo, si impegna nel medicarlo ogni giorno e nel fargli fare i giusti movimenti per mantenere il tono muscolare. Dopo la puntazione per mantenere il tono muscolare e riprenderlo, abbiamo fatto sì, in piscina e abbiamo scoperto un'attività che è quella analoga dell'agility, però in acqua, dove lui si è rivelato dotatissimo, per cui abbiamo cominciato a fare i garni, abbiamo già anche vinti.